È un vicoletto che in pochi conoscono, se non chi ci abita o chi deve andare alla sua barca ormeggiata lungo il porto canale. Lo simbocca in fondo a Viale Cairoli, prima del passaggio pedonale per il Lido, costeggiando la ferrovia. A portarci qui è stata la segnalazione di un cittadino e di segni che notiamo al nostro arrivo sono inequivocabili circa le cattive frequentazioni serali di questo posto e di una situazione datata di sporcizia e degrado a pochi passi dal salotto buono della città. Come ci ha riferito il segnalatore, l'oscurità che avvolge questo posto e lo scarso passaggio serale ne fanno, ahimè, un posto ideale per tossicodipendenti o per chi cerca lo sballo serale. Sono tantissime le bottiglie di birra, vino e super alcolici lasciate vuote praticamente ovunque, anche negli spazi condominali delle abitazioni che qui hanno il retro. Gli innumerevoli bicchieri di plastica da cocktail e relative cannucce venere sparpagliate ovunque ci suggeriscono una prolungata permanenza sul posto in ore serali, ma la cosa che più ci destra allarme è la siringa usata, ancora sporca, che ci ha detto il telespettatore è lì da diversi giorni a testimonianza di chi frequenta il luogo. Ed infatti fatichiamo poco ad individuarla, la troviamo poco distante dalle abitazioni, pericolosamente lì a portata di mano di chiunque, anche di ignari bambini.